buongiorno oggi vedremo come si monta il meccanismo di un orologio da parete prima di tutto si mette la rondella in gomma poi quella in metallo si abita il giudino e si inseriscono le lancette ore minuti e secondi ora vediamo come si monta il quadrante dell'orologio quindi prima rondella in gomma poi il quadrante si inserisce poi si mette la rondella in metallo il dado ben chiuso in modo da fissare bene il quadrante e ora le lancette sempre prima quella delle ore poi quella dei minuti vanno a pressione bene in fondo e infine è quella dei secondi si inserisce dietro la batteria e l'orologio funziona grazie a tutti alla prossima